A tutti ben ritrovati, diamo uno sguardo alla stagione autunnale 2015, l'autunno meteorologico inizia il primo di settembre. Un autunno che dovrebbe essere caratterizzato da un andamento delle temperature sopra le medie del periodo e con una piovosità a tratti intensa. La prima parte dovrebbe essere caratterizzata da un andamento a montagne russe, questo perché ci sarà un avvicendamento tra rimonte degli anticicloni subtropicali dall'Europa occidentale e passaggi instabili e anche freschi o dal nord atlantico oppure dal nord Europa. Questo è vero soprattutto nella prima parte dell'autunno. La seconda parte invece dovrebbe essere caratterizzata da un aumento della pressione sul bacino del centrale mediterraneo con periodi più stabili e secchi. Faranno eccezione probabilmente le regioni settentrionali liambite dalle code di perturbazioni e l'estremo sud-est che dovrebbe risentire di infiltrazione di aria più fresca da nord. Grazie, arrivederci.